Promozione tra i grandi per Davide Giannini, già una buona impressione con il Pescara nel ritiro? Sono molto contento che la società Pescara Calcio manda questa opportunità, cerco di fare il mio meglio e di sfruttare l'occasione che mi è stata data. Prima sensazioni dopo dieci giorni di lavoro? Sono molto contento, stiamo lavorando tutti insieme molto bene, con le idee del mister, molto bene. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Cerco di fare il meglio possibile, di lavorare e migliorare giorno dopo giorno.